Che cosa succede se qualcuno grida alla campagna? Che sparemo, questa cosa che fermo, cioè gli spariamo, prima ancora meglio, se ce lo dice prima gli spariamo ancora prima, cioè così abbiamo, no, parliamoci chiaro, il buonismo è finito, se tu vuoi ammazzare me magari io mi difendo, a Venezia ci difendiamo.